Il magazine di Alfonso Signorini lancia una bomba mediatica su De Martino. Nel nuovo numero di Chi, il noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, è contenuto uno scoop che riguarda Stefano De Martino A quanto pare il ballerino napoletano avrebbe una nuova fiamma. L'ex marito di Belen Rodriguez è stato paparazzato insieme alla modella Chiara Scelsi Secondo quanto riportato dal noto magazine, l'ex conduttore del daytime di amici e la ragazza in questione avrebbero un'amicizia particolare nata solo alcuni giorni fa Sembra, infatti, che i due si siano visti tra le strade di Milano, incontro che ha scatenato un feeling speciale Tra i due c'è stato un colpo di fulmine? Stefano De Martino pizzicato insieme alla modella Chiara Scelsi Ovviamente dopo il rumor slanciato da Chi, i fan di Stefano De Martino hanno iniziato a chiedersi chi è Chiara Scelsi Quest'ultima è molto giovane, infatti ha 22 anni e fa la modella. È stata lanciata nel mondo della moda solo nel 2015 grazie allo stilista tedesco Karl Lagerfeld Grazie alla sua bellezza e bravura, la nuova ipotetica fiamma di De Martino è diventata anche musa di Dolce e Gabbana La madre è brasiliana. Intanto Stefano De Martino un paio di settimane fa ha rilasciato una lunga intervista alla magazine Diva e Donna facendo delle dichiarazioni clamorose sul suo corpo Il ballerino partenopeo ha ammesso che spesso si sente un pezzo di carne che cammina Inoltre, ha affermato che fa questo lavoro solo per guadagnare dei soldi. Infatti se qualcuno gli proponesse una mansione più remunerativa, lascerebbe subito la televisione Stefano De Martino e il Natale in famiglia. Stando alle foto postate sui suoi social, Stefano De Martino ha trascorso il santo Natale in compagnia della sua famiglia Il ballerino è volato a Napoli per stare tutti insieme. Ovviamente con lui non c'era il figlio Santiago che era con la madre Belen Rodriguez Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like